Quaggiaria di sciacca di Lorenzo Raso. Questo è il titolo del libro che è stato presentato lo scorso sabato pomeriggio all'interno della Sala Conferenze di Palazzo Lazzarini, iniziativa patrocinata dal Comune. Oltre all'autore ne hanno parlato il presidente dell'Associazione di Promozione Sociale, l'altra sciacca, Pietro Mistretta, autore della prefazione, e il giornalista Raimondo Moncada, che ha letto alcuni brani tratti dal testo. Il volume, edito dalla Melkart Communication di Sciacca, racconta, in versi dialettali, storie, costumi, modi di dire, persone, personaggi, che hanno dato lustro alla città. Lorenzo Raso lo ha fatto attraverso due distinti tomi, Quaggiaria 1 e Quaggiaria 2, un percorso dunque molto importante e giunto adesso al suo completamento. Che cos'è Quaggiaria 2? Quaggiaria 2 nasce come, alla fine di, scusate il bisticcio di termine, di Quadragia 0, Quadragia 1, che dir si voglia. Perché, nello scrivere quel volume, quel lavoro, io avevo immaginato le parti strutturali di Sciacca, cioè tutti quegli fenomeni grossi, vistosi, importanti, che hanno sempre caratterizzato e fatto famosa la nostra città. Alla fine mi mancavano, diciamo così, sempre, tra virgolette, le piccole cose, o comunque le cose che apparentemente sono più transitorie, più passano di settimana in settimana senza lasciare particolarmente traccia, diciamo, alla cittadina. Però, a mio modo di vedere, rappresentano forse la parte più importante della nostra tradizione, della nostra cultura, del nostro modo di essere. E così ho cominciato a dare inizio a questa raccolta di quadri caratterizzati, per esempio, da alcune figure, da alcune tradizioni, dai nostri monumenti, da tutta una serie di situazioni che magari all'apparenza noi non riusciamo a sintetizzare, a stigmatizzare. Però che nell'insieme rappresentano un pochettino la nostra città, la nostra cultura, il nostro modo di essere. Effimminaro. Effimminaro chiede che solo aveva un pensiero. La femmina. La femmina che non fosse ovviamente sua moglieri, ma una dilettante, aperta, un enrico e pronta a soddisfare qualsiasi capriccio. Che fosse casalinga, oppure cammarera, maestra, schietteranno, oppure n'ambermera. Pedru è la stessa cosa, non cancia proprio niente, come un ci interessa, so che dice la gente. Pedru conta solo, poteri si vantare, da avere sempre a fianco una cuccuiu cari, sia già vecchia insipita, oppure picciutteggia, la femmina giunonica, oppure cacateggia. Quei chi lo canusci lo chiama fanfaroni, un mezzo depravato, di tenera lagnoni, pedru in meci e vanto. Sentisi spetto e raro, anche con l'etichetta, d'essere femminaro. Con Lorenzo invece c'è una conoscenza di moltissimi anni. È una conoscenza che va prima dalla persona, poi a quello che è stato l'autore di queste opere e poi giustamente anche un rapporto personale che ci lega da tantissimo tempo. Per cui quando mi ha chiesto questa prefazione mi ha, ripeto, trovato un po' non in sintonia con quello che mi aspettavo quando mi ha chiamato, però io con grandissimo piacere ho reputato di fare il mio, tra l'altro per virgolette, dovere, nel senso di dire quello che penso dell'opera e valutare quello che materialmente è la quadreria 2. La presentazione del libro di Lorenzo Raso andrà in onda in versione integrale nei prossimi giorni su Tele Monte Cronio.